Arezzo come il Tibet. Dal 2013 infatti le bacche di goji, i piccoli frutti rossi dalle innumerevoli proprietà benefiche antiossidanti, sono coltivate anche in Val di Chiana. Ad Arezzo è nata la prima produzione di goji fresco, grazie allo spirito imprenditoriale e all'idea innovativa di un gruppo di amici, Stefano Fratini, Marco Fabriciani e Fabio Primavera. Quello che vedete qua dietro alle mie spalle è il più grosso impianto europeo di coltivazione di piante di goji. Biofattoria Toscane ha creato questo impianto di circa 8200 piante di goji con una capacità produttiva a regime di circa 70 tonnellate di bacche fresche e 10 tonnellate di bacche essiccate, che possiamo dire al momento per quello che ci risulta essere il primo impianto come dimensioni in Europa e il primo impianto al di fuori della Cina di queste dimensioni. Abbiamo fatto delle analisi sui tipi di terreni nei quali questo tipo di pianta in Cina cresceva. Il Ningxia, che è la regione che sviluppa le piante migliori, è un terreno alluvionale perché lì ci passa il fiume giallo, il fiume giallo esonda e quindi arricchisce il terreno di sostanze. La Valdichiana è un terreno alluvionale. Il valore di carotenoidi, in particolare di un carotenoide denominato Zaxantina, che è quello maggiormente contenuto nella bacca di goji, delle nostre bacche, delle prime bacche ottenute quest'anno con il raccolto, è di circa il 20% superiore alle migliori bacche che abbiamo acquistato sul mercato. Da quest'anno avremo il primo raccolto significativo, quindi quest'anno abbiamo raccolto circa 90 kg, tenete conto, come dicevo prima, che la capacità produttiva si parla di 70 tonnellate, quindi veramente poche cose, che abbiamo indirizzato e utilizzato per la ricerca scientifica e abbiamo utilizzato per fare dei campioni di marmellate, di composte, che abbiamo inviato a dei potenziali clienti anche all'estero.